Mancano meno di dieci giorni, gli esami di maturità e i docenti sono alle prese con gli scrutini. Il Morvillo Falcone cerca di ritornare alla normalità, ma guidare l'istituto professionale non sarà più Angelo Rampino perché il preside è stato sospeso dal suo incarico. Un provvedimento cautelativo, spiegano dall'ufficio scolastico regionale, perché a suo carico è aperto un procedimento amministrativo per il contenuto di alcune sue interviste rilasciate giorni dopo l'attentato. Questa è la versione ufficiale, ma in realtà, dopo la strage del 19 maggio, il preside è molto turbato. Per alcune illazioni fatte sul suo conto, ad un certo punto tra le piste emerse, anche quella di una vendetta personale nei suoi confronti, poi smentita strada facendo. Rampino sarebbe dovuto rientrare dalle ferie questa settimana, ma così non è stato. Ed intanto Giovanni Vantaggiato, reo confesso della strage alla Morvillo Falcone, ha trascorso un altro giorno in carcere. Di lui la famiglia di Melissa non vuol sentir parlare. Lui non deve neppure nominarla, hanno detto papà Massimo e mamma Rita, per lui nessun perdono. Non ci credono i genitori di Melissa al suo pentimento, pensano che è solo strategia. E poi nulla farà tornare più la loro figlia. Mentre si ipotizza il trasferimento di Veronica Capodieci, una delle cinque ragazze rimaste ferite, in un centro specializzato negli Stati Uniti, la giovane ora è ricoverata all'ospedale di Pisa. In merito alle indagini, poi, si cerca di ricostruire la vita privata e gli affari economici di Vantaggiato. Lui che continua a dire che alla base del suo gesto c'è il suo malessere con il mondo, con chi fa le leggi, che non tutte le cittadini. Ha scelto il Morvillo Falcone perché si arrivava subito e qui a Brindisi nessuno lo conosceva. Su presunti complici resta però il punto interrogativo. Ha conferma che si è stato proprio lui a costruire l'ordigno, il ritrovamento nel suo deposito di carburante della valvola di una delle tre bombole che lui ha aperto per riempirla di polvere pirica e poi delle pile. Le stesse della stessa marca ritrovate sul posto dell'attentato con le quali è stato costruito l'innesco.